Ciao a tutti! Cosa sono i periodi storici? I periodi storici sono le classificazioni fatti dagli storici e da storia. La storia inizia con l'invenzione della scrittura. Dall'invenzione della scrittura fino all'inizio del Medioevo e alla fine dell'Impero Romano d'Occidente, parliamo di Età Antica, successivamente abbiamo il Medioevo che va dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, 476 d.C., alla scoperta dell'America, 1492. L'altro periodo storico che segue il Medioevo è l'Età moderna che va dal 1492, scoperta dell'America fino alla Rivoluzione Francese. Dalla Rivoluzione Francese 1789 ai nostri giorni abbiamo l'Età contemporanea. Questa è la classificazione che gli storici accettano. Tutti gli avvenimenti vengono inseriti in base alla data in cui avvengono in questi periodi storici. Vi raccomando non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relative alla storia. Ciao, ci vediamo al prossimo video!